L'avvocato Pisani all'attacco della Juventus revocare due scudetti ai bianconeri. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Gli avvocati napoletani insistono, lo scudetto 2019 deve essere rimosso dalla Juventus e assegnato a Napoli. Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta e Angelo Pisani, in qualità di difensori del Codacons e dell'Associazione Club Napoli Maradona, nella loro sentenza dinanzi allo Sport Guarantee College proposta dalla Juventus FC, notano con soddisfazione la decisione di respingere gli appelli di Agnelli, Paratici, che Rubini e Arriva Bene accettano in parte, con riferimento alla CFA, le risorse di altri manager, manager senza rappresentanza, per i quali le aziende hanno meno responsabilità, solo. Oggettiva e non direttamente, con il solo scopo di rivalutare la determinazione del contributo causale dei singoli amministratori e, se del caso, la sanzione inflitta a Juventus se è stato accertato che tale contributo causale non era sufficiente. Accade, quindi, insiste avvocato Pisani, ha confermato la constatazione del cambiamento avvenuto nella regolarità del campionato 2018-2019 da parte della Juventus, una condizione fondamentale per la richiesta di revoca dello scudetto 2019 e la sua attribuzione al Napoli, giunta al secondo posto, Lazio depositata il 31 marzo 2023 per conto dell'Associazione Club Napoli Maradona e Codacons. Maradona e Codacons.